benedetto sei tu signore dio di israele benedetto perché tu solo compi meraviglie benedetto il tuo nome glorioso per sempre la tua gloria si diffonde su tutta la terra si diffonde oggi nella vicenda di giuseppe ma o signore diffondi la tua gloria anche nella nostra vita dal vangelo di matteo capitolo primo versetti 18 24 così fu generato gesù cristo sua madre maria essendo promessa sposa di giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello spirito santo giuseppe suo sposo poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto mentre però stava considerando queste cose ecco gli apparvi in sogno un angelo del signore gli disse giuseppe figlio di davide non temere di prendere con te maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo spirito santo e la darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai gesù e gli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal signore per mezzo del profeta ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio a lui sarà dato il nome di emmanuele che significa dio con noi quando si destò dal sonno giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del signore e prese con sé la sua sposa giuseppe è uomo giusto e deve decidere di fronte a una situazione che mai avrebbe immaginato la sua sposa avevano infatti già firmato il contratto di matrimonio anche se non era ancora avvenuta la festa di nozze e quindi non vivevano ancora insieme la sua sposa dunque è incinta che scelta deve prendere matteo non ci dice niente dello stato psicologico di giuseppe che idea si era fatto di quel bambino che cosa gli aveva detto maria gli aveva raccontato dell'annuncio dell'angelo e lui giuseppe che cosa pensava della sua futura sposa di maria domande a cui non abbiamo risposte certe però una cosa è sicura lui innamorato di maria lui che era pieno di gioia e aveva deciso di prenderla come sposa ora teme di prenderla come sposa teme perché anche in questo caso noi vorremmo sapere da matteo la ragione del timore teme perché ritiene quel bambino frutto di un adulterio non credo teme perché riconosce che quel figlio non è suo ed è il frutto della potenza di dio e dunque non ha il coraggio di prendere come sposa la mamma di un bambino nato per opera di dio una cosa è certa quel bambino non è suo e nella sua giustizia egli non vuole fingere di essere il suo padre in cui nasce la prima decisione non prendere maria la seconda decisione riguarda il modo con cui rompere il contratto matteo dice che giuseppe aveva deciso di non esporre maria il disonore pubblico cioè non voleva portarla davanti al sinedrio al tribunale di nazareth e celebrare un processo pubblico contro di lei pensava probabilmente di agire in maniera più discreta e cioè di mandare due testimoni con un documento di divorzio alla casa di maria un atto privato dunque fatto però sempre davanti a due testimoni fatto privato limitato a due testimoni ma certamente la cosa non sarebbe rimasta segreta una promessa a sposa che viene abbandonata e che poi partorisce un bambino sarebbe stata sulla bocca di tutti un piccolo paese come natteret ma giuseppe questa sembrava la decisione più giusta rispettare la legge nello stesso tempo agire con misericordia verso maria aveva deciso e qui c'è la grandezza di giuseppe e qui può nascere per noi un motivo di riflessione ma continuava a riflettere continuava a pensare in fondo non sentiva ancora che questa era la decisione più vera giuseppe è grande e ci insegna come dobbiamo arrivare alle nostre decisioni ogni nostra decisione deve nascere dal rispetto della legge di dio questo è chiaro e dalla misericordia dell'uomo certo della misericordia dell'amore certo ma nello stesso tempo deve essere aperta alle sorprese di dio alle novità che dio opera e quindi ogni nostra decisione deve essere accompagnata da preghiera questa è la caratteristica di giuseppe l'uomo che sa prendere le decisioni lasciando la possibilità dio di illuminarlo dedica al tempo alla riflessione alla meditazione interiore è in questo spazio che interviene l'angelo che offre a giuseppe una interpretazione diversa di ciò che è capitato l'angelo gli rivela nel sogno che quel bambino è frutto dello spirito santo gli rivela che quel bambino salverà il popolo dai suoi peccati giuseppe che cosa c'entra in questa storia l'angelo gli fa capire che lui artigiano è però il figlio di davide egli è discendente del re davide dunque in quanto discendente di davide ha una missione deve dare il nome al bambino dagli una famiglia al bambino che nascerà da maria e il nome che gli dovrà dare è gesù il salvatore questa è la missione che giuseppe riconosce di avere quindi se questa è la tua missione non temere non aver paura lo spirito del signore suggerisce a giuseppe di non temere come era avvenuto in tante occasioni quando gesù chiama quando dio chiama qualcuno gli dice non temere lo dirà anche a maria non temere la tua giustizia non è solo quella di osservare le leggi ma anche nella novità che si realizza nel prendere maria pur essendo incinta e anche se quel figlio che lei porta in grebo non è tuo ecco sarai tu a dare il nome a quel bambino questa è la giustizia di dio e giuseppe il giusto riconosce che in questa soluzione a cui non aveva mai pensato perché non era immediatamente riconoscibile dalla legge anche se matteo ci dice che in questa maniera si compie la scrittura che aveva annunciato ecco la vergine conciperà e darà alla luce un figlio dunque lui ascoltando giuseppe ascoltando l'illuminazione interiore fa la scelta giusta obbedisce la scelta giusta è sempre un'obbedienza alla volontà di dio e prende come sposa maria san giuseppe aiutaci a imparare a decidere a far precedere ogni nostra decisione dalla preghiera dalla meditazione aiutaci a lasciare spazio nel nostro intimo all'ispirazione che tu ci doni quando lasciamo il cuore libero disponibile alla tua volontà aiutaci ad avere il coraggio di non temere se il signore ci chiede una decisione che noi non avremmo fatto ma che capiamo giusta donaci il coraggio di fare quello che tu ci chiedi grazie giuseppe del tuo coraggio hai deciso di prendere con te maria hai dato il nome a gesù e hai contribuito alla nostra salvezza vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amene buona giornata grazie 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 grazie